Buonasera amici, non potevo andare a dormire se prima non vi facevo la buonanotte, vi auguravo la buonanotte, perché voglio ringraziarvi a tutti che oggi mi avete fatto tanti complimenti per il couscous e io sono molto contento di questo, ringrazio a tutti quanti, adesso voglio augurarvi la buonanotte, grazie a tutti veramente, un po' intimo di stare qua, e niente, è un buonanotte appetito, ho saltato la cena stasera, ho mangiato couscous, allora oggi ho saltato la cena, la cipolla mettiamocela, la cipolla, un pochettino di olio di estravergine di oliva, se voglio l'olio di estravergine di oliva, faccio panuzio che, vediamo, vediamo, che mi ha fatto, ora vedremo con me, con me, vediamo con me, è un po' di panuccio, diciamo, bene po' di panuccio, diciamo, bene po' di panuccio, diciamo, bene po' di panuccio, diciamo, ecco un po' di panuccio, diciamo, ecco un po' di panuccio, alla iglesi, quindi sono andata alla televisione, quando niente, come come, è spettacolare, mangiare le fronte, 10,25 ragazzo vi auguro buon inizio di settimana per domani buonanotte buonanotte a tutti scusate il disturbo anche a quest'ora ma ci tenevo tanto da salutarvi e augurarvi una felice notte e sognitore a tutti alla prossima ciao